Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 Carmine, Marino Antonio, Blasco Ignazio, Arrotta Carlo, Paone Raffaele, Arrotta e Paone, Paone l'ho visto, Arrotta pure, Fratto Luigi, sesto classificato, quinto classificato dalla Sicilia la provincia di Catania, Di Mauro Giuseppe, Di Mauro Giuseppe, quinto classificato, appena giù dal podio, appena giù dal podio anche dalla Sicilia, anche lui dalla provincia di Catania, nel cuore dell'Etna, Mangiagli Angelo, quarto classificato, le costole sono a posto Angelo, incidente a Magisano, posto le rotte, terzo classificato, per la seconda volta di fila riesce ad acciuffare il podio, Giuliano Mattia, Giuliano Mattia, sali, sali sopra sul podio, terzo classificato, Mattia è stato, ha conquistato il campionato regionale Speed Down Calabria 2019, era la scorsa stagione ovviamente, oggi terzo classificato, premia il gruppo folk di Sersale, secondo classificato, anche lui dalla Sicilia, Patanè Stefano, secondo classificato, si ripete, quindi Patanè Stefano, secondo classificato, si ripete dopo la vittoria della gara scorsa ad Albi, anche lui dalla provincia di Catania, Greco, Salvatore, mette una serie ipoteca alla conquista del titolo regionale, bravo Salvatore e complimenti. vai sul podio, salvo, salvo, vai, poggiala, sì, foto, ricordo, signori categoria N5K, un applauso. grazie a tutti, grazie a tutti.